più veloce sarà la nostra connessione internet più soldi andiamo a guadagnare fino a 40 dollari al mese oggi raga insieme andiamo a vedere uno dei migliori siti di guadagno online del 2019 raga uno dei migliori anche del 2020 se continua così sempre serio e pagante con molteplici vie di guadagno online tutto in un unico sito se vuoi guadagnare soldi online iscriviti al canale di felix attiva la campanellina se vuoi rimanere aggiornato su tutti questi siti che ti fanno guadagnare soldi comodamente da casa e oggi andiamo a vedere come guadagnare soldi senza fare praticamente niente in modo automatico grazie a questo sito qui chiamato jetpay2 ti lascio il link qui sotto in descrizione del video in modo automatico senza fare nulla possiamo guadagnare 40 dollari al mese 40 dollari al mese sono sui 40 euro prima di proseguire con il video fate vedere il sito fate vedere questo nuovo guadagno automatico vi fate vedere la prova di pagamento come vedete mi ha pagato su skrill 5 dollari e 60 centesimi e chi ci paga è questa società qua che si attacca al sito sempre serio e pagante questo qui è il mio secondo pagamento che ho ricevuto da jetpaid2 andiamo guadagnare soldi ripeto senza fare nulla perché ci farà scaricare un'applicazione solo tramite il pc andiamo ad attivare questa applicazione dando solo la nostra username con cui ci siamo registrati al sito e in modo automatico andiamo a guadagnare i punti dopo i punti li possiamo convertire in soldi su paypal soldi su skrill questo è una cosa che consiglio a tutti andate a prelevare con skrill per chi non sapesse skrill è un portafoglio elettronico come paypal per me è meglio skrill perché i prelievi da qualsiasi altro sito sono sempre bassi e si prendono poche commissioni questa qui che vedete è un aggiornamento importante che ha fatto questo sito qui molteplici vie di guadagno ok infatti guadagno ogni volta che vai online iscriviti gratuitamente oggi ripeto vi lascio il link qui sotto in descrizione ho già fatto video di jetpaid2 dove possiamo guadagnare i punti giocando andando a completare i sondaggi e andando adesso con dei punti rapidi che sarà poi il guadagno automatico non solo ci sono veramente un sacco di via di guadagno online prelievo minimo sono 5000 punti che equivalgono a un dollaro veramente semplice il funzionamento andiamo ad effettuare i nostri compiti anche in automatico andiamo a guadagnare i punti e veniamo pagati in modo completamente gratuito per registrarsi basterà andare su aderire qua ragazzi diamo tutte le nostre informazioni nome utente password confermiamo la password varie email una volta che ci siamo registrati basterà effettuare l'accesso per accedere alla pagina tutti i punti che andiamo a guadagnare li vediamo qua nella destra nel nostro balance come vedete attualmente ho 16.000 punti ho incassato 85.000 punti ci sono molti metodi per guadagnare con questo sito qui serio e pagante vi rifaccio vedere la prova di pagamento ok 5 dollari e 60 centesimi guadagnati senza fare nulla e ripeto a tutti che il prelievo minimo è di solo un dollaro possiamo guadagnare i punti andando a giocare ok nella sezione giochi andando a giocare a tutti questi giochi qua veniamo pagati ci sono veramente un sacco di giochi e non solo veniamo pagati grazie a questa sezione qua chiamata punti rapidi andate sopra qui veniamo pagati per completare dei captcha ok andando anche a tracciare delle linee pensate bene veniamo pagati guardando dei video con hideout tv ok mentre guardiamo i video ci saranno delle pubblicità al suo interno è lì che veniamo pagati e veniamo pagati guardate questo aggiornamento qua JetPay 2 per non fare nulla noleggia la tua larghezza di banda inutilizzata ci premiamo sopra questo qui è un guadagno automatico che cosa vuol dire? è una specie di cloud mining ok non va ad intaccare la cpu va solamente ad utilizzare la nostra connessione internet ok quindi più veloce sarà la nostra connessione internet più soldi andiamo a guadagnare fino a 40 dollari al mese aiuta a fornire i servizi cloud mining sicuri quando il tuo computer è inattivo molto semplice che cosa bisogna fare? bisognerà installare l'applicazione o su windows o su linux solo tramite il pc si può fare il guadagno automatico una volta che abbiamo scaricato l'applicazione la andiamo ad avviare e basterà mettere il nostro nome utente con cui ci siamo registrati al sito come vedete il mio è felix88 una volta che abbiamo fatto raga il programma andrà in background e basterà ricontrollare tra 24 e 48 ore nel nostro saldo se abbiamo ricevuto i soldi se abbiamo ricevuto poi i punti li troviamo poi qui metti alla prova la tua velocità di upload ci fa fare un test di velocità della nostra connessione perché questo? perché se andiamo qua quanto posso guadagnare? qua che cosa ci dice? ci dice tieni presente che quando installi il software di solito c'è un ritardo di 24-48 ore prima che ti presenti nei nostri rapporti quindi in 24-48 ore si andrà ad aggiornare il nostro balance e ci farà capire quanti punti stiamo guadagnando grazie alla nostra connessione internet qua che cosa dice poi? puoi guadagnare fino a 40 dollari al mese 1 dollare 33 centesimi al giorno facendo praticamente niente importa che i guadagni dipende da alcuni fattori leggiamo qui sotto il nostro schema di pagamento è il seguente quindi se abbiamo una connessione internet che va da 1 a 10 andiamo a guadagnare 2 dollari al mese se abbiamo una connessione che va da 10 a 100 andiamo a guadagnare 8 euro al mese se abbiamo una connessione che va sui 100 raga ok quindi questa qua è la fibra andiamo a guadagnare 40 dollari al mese qua potete poi leggere alcune altre informazioni ok quindi questo qui è un nuovissimo aggiornamento di questo sito qua chiamato JetPay 2 pagati adesso anche per non fare nulla basterà premere qui per scaricare il programma come vedete è anche piccolo soli 13 megabyte una volta che l'abbiamo scaricato lo andiamo ad avviare e andiamo a mettere il nostro nome utente in modo automatico dopo basterà lasciare acceso il pc quando il nostro pc sarà inattivo il programma incomincerà a generare punti in automatico e punti poi andranno messi nel balance nella nostra home una volta arrivati al prelevo minimo basterà andare su incassare qua come vedete si può prelevare tramite bonifico bancario veloce e sicuro importo minimo di 5 dollari che sono 25.000 punti io consiglio a tutti Skrill solo una piccola commissione di transazione l'1,45% l'importo minimo è un dollaro solamente 5.000 punti ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale di Felix attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su questi siti che ti permettono di guadagnare soldi online senza investire soldi noi ci vediamo e ci sentiamo in un prossimo video ciao da Felix